Senti, visto che sei un medico, vorrei chiederti una cosa. Sì. Ecco, a volte non mi piace come sono fatto. Potresti aiutarmi? Barry, sono un dentista. Ciao, sono Georgia. Io sono Barry Egan. Che lavoro fai, Barry? Ho una mia attività, produciamo degli oggetti infrangibili. Le do una dimostrazione. Sei sposato, vero? No. Barry, c'è tua sorella. Voglio farti conoscere una mia collega di lavoro. Lei è Lina. Ciao. Ciao. Hai una ragazza? No. Deve essere strano avere tante sorelle. Ciao, Barry. Io lo trovo divertente. Se ti chiamavamo Finocchietto ti arrabbiavi. Che cosa? Quando ti chiamavamo Finocchietto tu ti arrabbiavi. Ho visto la foto e ho detto, vediamo com'è. Ah, non stai mettendo. Ok. Non volevo uscire con te e nasconderti particolari importanti. Sono Barry. Ciao, sono Georgia. Chi ti ha dato questo numero? Volevo chiederti se potevi darmi un po' di soldi. No, mi dispiace. Hai appena intrapreso una guerra che non ti puoi permettere. Venerdì vado alle Hawaii. Alle Hawaii? Ci stavo facendo un pensierino anch'io. Davvero? Sto raccogliendo tutta una serie di coupon che mi permetteranno di ottenere un volo gratuito. Questa è una follia. Grande! Sono Barry. Hai cancellato la carta di credito. Basta con questa storia! Passami subito al tuo principale! Sì? Voglio sapere nome e indirizzo, lei è pazzo! No, 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 sta zitto! Hai capito? Zitto, 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 zitto! Sta zitto! Vuoi minacciarmi? Sì. È un grosso errore, sei già cadavere! Ti prego, no, no! Tu non hai la più vaga idea di quanta forza ho dentro. L'amore che riempie la mia vita mi rende più forte di quanto tu possa immaginare. L'amore che riempie la mia vita mi rende più forte di quanto tu possa immaginare.